E' grande la gioia all'Istituto Comprensivo Criscuoli di Sant'Angelo dei Lombardi. La scuola al Tirpina, con tutte le varie sedi distaccate, Guardia Lombardi, Rocca San Felice, Torella dei Lombardi e Morra dei Sanctis, ha partecipato al concorso nazionale La scuola adotta un monumento e con una medaglia d'oro stellata, due medaglie d'oro ed una medaglia d'argento, risulta la più premiata d'Italia. Ai nostri microfoni le parole di soddisfazione del dirigente scolastico Nicola Trunfio. Il concorso è adotta un monumento promosso dall'Associazione Napoli 99, concorso nazionale, hanno aderito scuole dalla Val d'Aosta alla Sicilia. Chiedeva sostanzialmente alle scuole di organizzare video relativi alla promozione e rivalutazione del cosiddetto patrimonio artistico, storico, culturale e paesaggistico minore. La soddisfazione è stata quella di scoprire qualche giorno fa, attraverso la pubblicazione delle graduatorie, che la nostra è la scuola più premiata a livello nazionale. Ben quattro video promossi dai nostri ragazzi che nell'ottica di rivalutazione del patrimonio storico-culturale della nostra Alta Irpinia, hanno meritato, nelle varie categorie ovviamente, medaglie d'oro stellate, medaglie d'oro e medaglie d'argento. Quindi i nostri paesi, i beni storico-artistici del nostro paese, grazie ai nostri ragazzi, arrivano sul palcoscenico nazionale. Ci sarà un evento il 14 di novembre a Napoli, al quale parteciperanno varie scuole d'Italia. E noi, per quanto riguarda la scuola primaria, avremo l'onore di vedere proiettato il nostro video nel Teatro San Carlo di Napoli, con i ragazzi che l'hanno edito ad assistere alla cerimonia e con i docenti accompagnatori che hanno promosso la realizzazione di questa iniziativa.